17 settembre, buon sabato, mi sa che torna sul letto, ecco la situazione qui in marmolada sta nevicando alla grande e ne ha fatta un po' oh che bel risveglio, mi sa che anche oggi non si vede nessuno, va bene così dai meglio, l'importante è che nevichi torna sul letto, buonanotte grazie